Questo progetto è nato dall'idea di una canzone senti che parla di ottimismo, una canzone che è stata ideata per sensibilizzare la gente sull'argomento del defibrillatore, uno strumento utile e indispensabile in ogni ambiente. E quindi noi abbiamo fatto questo CD dove i fondi sono stati raccolti per acquistare un defibrillatore per la palestra e anche per la comunità dove sono stati fatti anche dei corsi di BLSD per sensibilizzare questo argomento qui. Stasera siamo qui per inaugurare questo progetto che ha avuto un grande successo e che io voglio ringraziare tutti quanti che hanno partecipato e anche Mirella che ha cantato con me. Mirella dà voce al progetto nella canzone senti, ti aspettavi tutta questa partecipazione da parte della comunità sanseverese? Me l'aspettavo sinceramente sì perché la nostra comunità è sempre molto sensibile a determinati argomenti e soprattutto perché la palestra Fitness Family dà la possibilità anche alla gente di conoscere anche cose tecniche. Quindi facendo dei corsi qui in questa palestra dove tutti possono partecipare. Quindi la passione e la professionalità che ci mette Ilario De Angelis ha fatto sì che mi portasse verso questo progetto in maniera molto più entusiasta. Quindi oltre alla voce è nata anche una grande amicizia.